tu stai facendo quella vecchia eh? di la l'hai fatta a piedi? non l'hai questa? ma non l'hai fatta a piedi vedi che ti ha ciulato? due cose qua non c'entrano niente li hanno abbandonati chiapolo qua nel buco poi loro dovrebbero allargarla un po di più sì sì allargati pure perché così è stretta stretta cioè almeno provarla giusta perché questo è picciola quindi o quando la fai stai un po' più in là oppure la devi fare che quando è sul davanti l'allunghi subito di modo che senti solo il dietro che ti accompagna ma si scivola di destra va bene? vai finisci da? vai finisci va là a piedi una volta guarda che sembra mannana no l'unica cosa come qua allargatela fuori dal perimetro al posto di farla stretta sennò non riesci a partire subito perché stretti così dopo ti ritrovi l'ostacchio e fai una fatica del diavolo per niente lo puoi fare affermare hai la pietra? hai la pietra in avanti devi arrivare su giusto è troppo forte quello è difficile arriva su lì e fai un piano però bello no poi stavo dicendo allargatela dove la chiudi perché sennò davvero fai una fatica del diavolo cioè all'inizio è meglio imparare a fare cose con i pesi che non stare dentro nel cerchio rimarrà grazie Grazie.